Basso Sebino, Frana del Monte Saresano, continua il monitoraggio, atteso l'avvio della progettazione degli interventi di stabilizzazione. Nuove digitali terrestri per Antena 2 TV, si accendono nuove aree di ricezione del segnale, ma il numero da comporre sul telecomando nei prossimi giorni sta per cambiare, sarà l'84, ebbene risintonizzare più volte i canali. Sce di fondo domenica 23 gennaio, il trofeo Città di Clusone e la pista della spessa verrà intitolata a Beppe Barzasi. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Oggi, poco dopo mezzogiorno, i soccorritori sono stati a lavoro in una zona impervia nel territorio del comune di Rovetter. L'arme è scattata intorno alle 12.15 per una donna di 51 anni caduta nella zona del Monte Blume, intervenuto lì di soccorso di Bergamo. La donna è stata portata in ospedale a Piario, non sembra essere in gravi condizioni. Nel primo pomeriggio è stato effettuato un secondo intervento dell'elicottero e dell'elicottero di soccorso di Bergamo nei pressi del rifugio Pian della Palù, sul Monte Porra, nel territorio del comune di Rogno. È stata soccorsa una donna di 67 anni colta da un malore e portata in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunta in codice giallo. E ora ci spostiamo nel basso Sebino, torniamo a occuparci della frana del Monte Saresano. In un incontro tra amministratori locali e i consulenti incaricati da Regione Lombardia è stato fatto il punto sulla situazione. Sentiamo Vladimir Lazzarini. Ieri durante un incontro tra gli amministratori locali e i consulenti incaricati dalla Regione Lombardia è stato fatto il punto sulla situazione della frana del Monte Saresano, nel comune di Tavernola Bergamasca. In una nota della Regione si legge che lo studio presentato ha consentito di analizzare la zona di rischio e ha dato l'opportunità di definire i primi interventi da adottare in questa fase attraverso l'ausilio di tiranti. Gli uffici dell'assessorato regionale all'ambiente stanno anche valutando di sospendere in via precauzionale l'uso dell'esplosivo per le attività di cava. Si dovrà quindi valutare la prosecuzione delle attività minerarie con altri metodi da sottoporre a verifiche e monitoraggio. Ora si attende innanzitutto l'avvio della progettazione degli interventi di stabilizzazione per i quali la Regione a novembre ha stanziato un milione e mezzo di euro. Si prevede di arrivare alla progettazione esecutiva entro il 30 novembre di quest'anno e si stima di attuare in 12-18 mesi le opere di stabilizzazione. L'assessore regionale al territorio Pietro Foroni sottolinea comunque che la situazione è in ogni caso sotto controllo. Gli studi non si sono mai fermati e continuano tuttora con attività di monitoraggio allo scopo di salvaguardare in primis l'inconumità degli abitanti. Una volta pronto il progetto esecutivo la Regione si rapporterà con lo Stato centrale per ottenere un finanziamento idoneo per consentire la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza. Non lasceremo soli i territori interessati, sottolinea Foroni. Siamo pronti inoltre a rafforzare il sistema di protezione civile del Bresciano e della Bergamasca per implementare il presidio sul territorio su entrambe le sponde del Lago di Zeo. Tra le risorse regionali stanziate vi sono anche 100.000 euro destinati alle attività di monitoraggio e per l'acquisto di strumentazioni, 50.000 euro destinati alle comunità montane dei laghi bergamaschi e del Bresciano per l'aggiornamento dei piani di emergenza, 250.000 euro per il potenziamento delle difese dalla caduta massi, 100.000 euro per la sistemazione della strada di collegamento per Parzanica e 15.000 euro per lo studio sugli effetti dell'eventuale onda di piena. Anche Bergamo sconta nel 2021 il calo generalizzato delle ore autorizzate di cassa integrazione rispetto a quanto finanziato nel 2020. Per la provincia aerobica si tratta di circa 50 milioni di ore in meno, il 55% di differenza con l'anno nero del Covid. Sicuramente i numeri sono numeri ancora importanti seppur in diminuzione, questo va evidenziato. Non siamo ancora ai livelli del 2019. Il 2019, anno pre-pandemia, dove l'utilizzo della cassa era sicuramente in quantità e in ore molto ma molto più contenute perché guardando i dati sul 2019 si arrivava a malapena i 4 milioni di ore autorizzate contro le 42 autorizzate nel 2021. Andando nel particolare si nota sicuramente un aspetto importante che è l'aumento rispetto invece all'utilizzo della cassa ordinaria e della cassa in deroga, aumenta invece la cassa integrazione speciale, strumento che viene utilizzato soprattutto per gestire le fasi di riorganizzazione che le aziende possono mettere in campo o per crisi o per ristrutturazione. Qui stiamo parlando di una crisi importante dai quasi 4 milioni del 2020 a 6 milioni e mezzo del 2021. Questo ci fa dire che probabilmente è in atto sì anche nella nostra provincia un cambiamento, cioè le aziende si stanno trasformando, chi l'ha fatto magari in tempi antecedenti e quindi l'ha fatto in periodi sicuramente meno complicati, magari farlo oggi sicuramente c'è l'esigenza anche di farlo con degli strumenti che aiutino quindi il passaggio magari in nuove produzioni o in tecnologie o comunque in attività diverse rispetto a quelle solitamente svolte. Anche se dobbiamo dire che se andiamo nei particolari con dicembre, rispetto a dicembre del 2020 la situazione è decisamente migliorata, cioè le ore utilizzate a dicembre del 2021 sono molto 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 meno insomma. Però questa quindi è la tendenza che possiamo dire si sta così portando nel 2022. Quindi possiamo dire che pur essendo in un momento dove la situazione occupazionale ma anche economica della nostra provincia si trova in una situazione decisamente positiva, l'utilizzo della cassa è ancora significativo. Quindi questo non ci fa stare tranquilli, motivi che possono essere diversi, dai primi se è la pandemia che sicuramente porta ancora difficoltà, soprattutto in quelle imprese che magari hanno anche un'attività di export e dove in quei paesi magari sono in atto anche delle restrizioni sanitarie importanti, quindi c'è un rallentamento anche dell'attività produttiva. Poi c'è un secondo problema che è legato soprattutto a reperire quelle che sono le materie prima. Quindi è chiaro che anche questo possa essere i fattori che hanno inciso. Quindi è un'attenzione che va ancora quindi tenuta alta. Con il nuovo digitale terrestre Antenna 2 TV è risultata segnataria di un'autorizzazione FSMA, ovvero fornitore servizi media audiovisivi in questi giorni. Si sta concretizzando il processo di passaggio al nuovo sistema che comporterà anche cambiamenti che riguardano la numerazione dei canali. Il mondo delle televisioni, locali comprese, sta vivendo un momento di cambiamento, aggiornamento. Cosa sta succedendo? Insomma è un processo inevitabile dovuto a norme di carattere europeo per la liberazione della cosiddetta banda dei 700 mega per lasciare spazio diciamo alle frequenze che verranno utilizzate poi dalla telefonia mobile. Quindi si riduce il numero dei canali di trasmissione per le emittenti nazionali e locali e questo ha portato a una rimodulazione diciamo così di tutti i canali che in questo periodo si sta concretizzando. E per quanto riguarda le emittenti come Antenna 2 TV? Beh abbiamo partecipato nei mesi scorsi ad un bando, siamo risultati utilmente collocati. Ecco le emittenti, la grossa differenza è questa, le emittenti locali da tra pochi giorni già in atto questo processo non avranno più i propri impianti di trasmissione. Fino adesso se mi passate questo paragone noi avevamo la patente e avevamo anche l'auto per partire esempio da Clusone e andare a Bergamo. Ecco questo, continueremo a avere la patente ma per andare a Bergamo dovremo salire su un pullman che si chiama operatore di rete insieme a tutti gli altri soggetti privati. Questi pullman a livello nazionale è stato deciso in Lombardia, quantomeno sono due, uno gestito da RaiWay, la società collegata alla Rai, e un altro da E-Towers che è la società collegata a Mediaset. Ecco gli operatori locali, cioè le televisioni locali, sono stati divisi in base, adesso non entriamo troppo nei particolari, suddivisi tra questi due operatori. Quindi dobbiamo viaggiare in pullman tutti insieme, però l'importante è che nelle case degli utenti arriveremo comunque, è necessario e sarà necessario un processo di risintonizzazione a maggior ragione nei prossimi giorni, quando anche la nostra zona sarà toccata da questo riproporzionamento delle frequenze. Cambierà anche il canale, il numero di riferimento per i telespettatori? Per i telespettatori, attualmente è il numero 88, come ben sapete, il numero che è stato assegnato alla nostra emittente dopo un bando che si è svolto, che si è concluso a dicembre, è l'84, come peraltro stiamo già pubblicizzando con alcuni spot. E inoltre si sta estendendo anche il segnale televisivo? Sì, le norme volute dal Ministero hanno previsto delle aree dei bacini, diciamo a livello regionale, tra l'altro quello della Lombardia è uno dei più ampi perché comprende anche il Piemonte orientale. La Lombardia è esclusa la provincia di Mantua e il Piemonte orientale sono ragioni di carattere tecnico dovute all'orografia del territorio. E quindi anche la nostra emittente, viaggiando su questo pullman, diciamo così, degli operatori di rete, ha già esteso il proprio segnale in questi giorni a tutta l'area Lombarda. Quindi nei prossimi giorni cosa succederà? Sì, allora ci sono delle date fissate dal Ministero per questo aggiornamento delle frequenze e spostamento anche del nostro numero che passerà dall'88 all'84. Allora, il primo giorno utile nella nostra zona sarà martedì 1 febbraio e riguarderà la nostra zona, intendo almeno la Bergamasca, la Valle Brembana, quindi il nostro segnale sarà ricevibile anche là. Soprattutto da mercoledì 2 febbraio il cambiamento riguarderà un territorio piuttosto vasto che è quello della media valle seriana fino a Nembro e tutta la Val Cavallina. Mentre per quanto riguarda giovedì 3 febbraio sarà l'ultimo giorno del processo che comprende il nostro territorio montano quando il cambiamento riguarderà anche l'area dell'altopiano di Clusone e soprattutto anche tutta l'area del bacino del Lago di Seo e la Valle Camonica. Ebbene, quindi aggiornare i canali? Sì, bisogna risintonizzare il televisore anche perché questo processo interessa anche i canali nazionali, i canali anche principali della RAI. Quindi in questi giorni se vedete sparire dal vostro televisore il primo sospetto, quello che dovete fare è fare la sintonia automatica dei vostri televisori. Se non siete in grado fatevi consigliare da qualcuno, se siete magari anziani non molto pratici con queste cose fatevi consigliare da qualcuno più giovane, un po' più diciamo dentro nelle questioni tecniche. Però è necessario risintonizzare e non una volta sola, anche più volte i propri televisori. E ora torniamo ad occuparci delle rivendite di abbigliamento al dettaglio in quanto, per quanto riguarda le rimanenze di magazzino, è stato introdotto uno strumento sicuramente interessante. Ringrazio Antenna 2 che mi dà l'opportunità di fare questo comunicato, a mio giudizio, molto molto importante. infatti, finalmente, grazie alle nostre istanze fatte all'attenzione delle istituzioni, si è riusciti ad ottenere il credito di imposta del 30% sulle rimanenze di magazzino. Credito di imposta che era stato avvallato solo per le aziende e non per i negozi al dettaglio. Da oggi, questo invece è da considerarsi anche un traguardo raggiunto da parte dei negozianti. Considerando che l'infrazione dalle stime di concommercio a gennaio 2022 è già schizzata al 4,7%, fortunatamente questo benefit del credito di imposta del 30% può portare un attimino un po' di sereno anche nella nostra economia, delle nostre attività commerciali. sicuramente tutto questo è avvenuto grazie all'attenzione delle istituzioni nei nostri confronti e tutto questo è valso solo grazie alle istanze che noi ripetutamente avevamo fatto alle istituzioni. Quindi anche i negozi di moda hanno diritto al credito di imposta del 30% come rimanenze di magazzino. E Visit Presolano ha un nuovo consiglio d'amministrazione. L'associazione che si occupa di gestire gli eventi turistici sul territorio di Castione della Presolana ha rinnovato le proprie cariche. I nuovi componenti sono Piero Beretta, Presidente, Andrea Rodolfo Tomasoni, Vicepresidente, Manuel Ferrari, Adriana Pasinetti ed Evelin Sozzi, Consiglieri. Il CDA resterà in carica per il prossimo triennio. Sentiamo il nuovo Presidente. Buonasera a tutti, sono Piero Beretta, il nuovo Presidente di Visi Presolana. Il nuovo CDA è stato eletto settimana scorsa e comprende nomi nuovi. C'è tanto entusiasmo in questo nuovo CDA e voglia di fare. Il gruppo nelle prossime settimane dovrà lavorare per definire eventi ma anche iniziative di promozione turistiche e comunicazione. Per fare in modo che le idee vengano messe in pratica sarà importante, ripeto, importante, avere l'aiuto e la collaborazione di tutti dal cittadino alle associazioni, ai commercianti e agli operatori turistici. In questi casi si dice che l'Unione fa la forza. Colgo l'occasione per ringraziare il CDA uscente e la Presidente Alessandra Motta per il prezioso e importante lavoro svolto in questi anni. Quest'anno, nato dalla sinergia tra l'amministrazione comunale, la società IRTA Montepora, Visi Presolana e le strutture ricettive, per la prima volta il 23 giugno sarà ospitata la Transalp. Castione della Presolana, infatti, è stato inserito come tappa di questa importante manifestazione ciclistica che si svolgerà il 23 giugno con più di mille partecipanti, la maggior parte di cui tedeschi, che avranno modo di conoscere e apprezzare le nostre valli, ma in particolar modo Castione della Presolana. E sarà sicuramente una bella giornata sugli sci, quella in programma domani a Clusone con il trofeo Beppe Barzasi. È tutto pronto per la gara in programma domani qui sulla pista della spessa a Clusone. Una giornata per ricordare anche e soprattutto Beppe Barzasi. Sì, stanotte, visto le temperature basse, siamo riusciti a sparare ancora un po' di neve. Oggi siamo qua a mettere a posto, a fare gli ultimi preparativi. Siamo molto contenti perché siamo riusciti ad allestire una bella pista. E la gara è in memoria di Beppe Barzasi, che ha fatto molto per questa pista, anzi direi quasi tutto. e siamo contenti di poter onorare la sua memoria, visto che lui ha fatto tanto per lo ciclo 13. Quali categorie saranno impegnate nella giornata di domani? Sì, le categorie saranno dai baby sprint fino ai senior, per cui dai sei anni in su. Le categorie piccole, per cui super baby, baby e cuccioli, faranno una gara diciamo normale, normale, mentre le categorie superiori fanno le qualificazioni in una gara sprint e poi ci seguiranno le finali verso la fine. Come è stato quest'anno lavorare e preparare questa pista? Ma lavorare questa pista è stato un grosso problema, però come tutti gli altri anni, però siamo riusciti comunque ad allestire una bella pista, siamo contentissimi. I nostri volontari, devo ringraziare loro, perché vengono giù la notte a sparare e a mettere a posto la pista. Come ben sapete, i problemi più grossi li dà il Covid, che ci mette un po' dei paletti, però per il resto noi siamo contenti di come sta andando la stagione. Come dicevamo all'inizio, la giornata di domani sarà dedicata in modo particolare a Beppe Barzasi, non solo per lo svolgimento del trofeo che porta a Sonoma. Sì, come consiglio della Ciclube abbiamo deciso di dedicare la pista di fondo a Beppe Barzasi, soprattutto per tutto quello che lui e la sua famiglia hanno fatto per questo sport. Vorrei ricordare che nel 2000 e nel 2002 abbiamo organizzato una gara a livello mondiale qua alla Spessa e tutto merito suo, perché è lui che ci ha spinto con la sua passione, con la sua grande carisma a organizzare questa gara di livello mondiale. per cui ci sembra giusto e doveroso dedicare a lui questa pista. Andiamo a spazio anche ad alcune raccomandazioni per il pubblico? Sì, vorrei invitare il pubblico domani a vedere la gara, perché sarà una gara interessantissima. Però soprattutto vi raccomando di portare le mascherine e soprattutto stare un metro uno dall'altro. So che è un momento difficile, però se vogliamo continuare a fare sport in sicurezza dobbiamo anche attenerci a queste regole. Comunque vi aspetto domani perché è una giornata dedicata al nostro Beppe Barzasi e vorrei vedere tanta gente qua. Ho sentito che dovrebbero presenziare anche gli Alpini, che anche lui era un grande amico degli Alpini e spero vivamente di poterli dedicare una bella giornata. Ed eccoci alla programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 di Antena 2 alle 20.30 trasmetteremo il settimanale di Sport Blue Sport alle 21.45 la rubrica religiosa Manano Biscum alle 22.10 la rubrica di medicina Salus TV alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.20 la rubrica più salute news alla mezzanotte e mezzo la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Telegiornale in onda anche alle ore 21.30 ma sul canale al numero 218 del Digitale Terrestre. Sul canale sportivo al numero 628 alle ore 20.30 trasmetteremo Antena 2 Sport. L'Almanacco per domani domenica 23 gennaio il sole sorge alle 7.46 e tramonta alle 17.18 il culmine è alle ore 12.32 la durata del giorno è di 9 ore e 32 minuti. La luna sorge alle 23.10 e tramonta alle 11.04 minuti di lunedì la fase lunare la luna è calante ed è visibile al 62%. La chiesa ricorda Santa Paola Elisabetta Cerioli. E con questo è tutto vi ricordiamo che a seguire vi saranno le previsioni del tempo per la settimana a cura del meteorologo Matteo Lacavalla. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.